Gentili telespettatori, buona giornata. Il viaggio a Mosca di Salvini, il PD all'attacco, spieghi le ambiguità, non ci racconti frottole. Lui andava lì, non andava lì a lavorare per la pace. E allora perché cosa andava lì a fare? A comprare la matriosca? Allora, il PD naturalmente coglie al balzo il giorno prima delle elezioni questo assist fatto dall'ambasciata russa. Allora, l'ambasciata russa prima di tutto fa questo il giorno prima delle elezioni, è fatto apposta, visto che Salvini gli ha fatto organizzare il viaggio, che l'ha fatto pagare, poi gli ha dato i soldi, di là già lo aspettavano, eccetera, eccetera. L'ambasciata russa ha visto che Salvini vado là a parlare di pace e poi Salvini che dice non vado più, sto in famiglia perché mi hanno criticato. Come? Ma se tu reputi necessario andare là, ci fai prenotare il viaggio e poi perché ti criticano dici sto a casa a guardare la televisione con la famiglia. Gli sono girate le scatole evidentemente perché noi lo conosciamo Salvini, sì, no, forse, prima vado poi non vado, sto a casa, non ci vado, vado a Buccinasco a fare il comizio. Loro non lo conoscono, hanno imparato a conoscerlo. Atteggiamento politico da banderuola. Ognuno in politica fa quello che vuole. E così l'ambasciata russa gliel'ha fatta pagare. Il giorno prima delle elezioni, visto che lui ci tiene il referendum per non fare la fine di Berlusconi, cancellare la legge Severino per poter essere in politica anche condannato, lui ha capito che gli vogliono dare qualche anno per abuso d'ufficio, con i processi, ha capito che potrebbe fare la fine di Berlusconi. Allora ci tiene particolarmente a questi referendum che gli darebbero la possibilità, anche se condannato, di rimanere senatore, anche perché lui ci vive con la politica, ci mangia con la politica Berlusconi, anche se l'hanno tolto da senatore. A lui non cambia niente, è un milionario, Salvini no, ci mangia. Naturalmente l'ambasciata russa fa un assist alla sinistra italiana. Vabbè, sono anche contigui, insomma, la Russia non è di destra, è di sinistra, quindi ha fatto anche un favore. Da Salvini amico a Salvini diventato nemico, banderuola nemico. Il PD non gli è sembrato vero quest'assist il giorno prima delle elezioni. Allora il Partito Democratico dice, non ci racconti la frottola che andava a lavorare per la pace. La Lega, dicono, nasconde gravi ambiguità che emergono ogni giorno in modo più evidente in merito al viaggio a Mosca, programmato da Salvini. Lo dice la presidente dei senatori DEM, Simona Malpezzi, che suona la carica del PD contro il segretario della Lega. Dopo le precisazioni dell'ambasciata russa in Italia sul viaggio saltato a Mosca, che dicono abbiamo assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei. I parlamentari del PD hanno presentato il conto alla Lega. Non ci racconti la frottola che andava a fare la pace. La risposta migliore agli assurdi e ingiustificati attacchi di Salvini e della Lega al PD è la lettera di Enrico Letta alla stampa. Noi al contrario, loro, vogliamo occuparci del futuro dei giovani e della necessità. Dice una nota di guidare una transizione giusta che protegga cittadini e imprese. La Lega attacca in modo scomposto per nascondere le gravi ambiguità che emergono ogni giorno in modo più evidente in merito al viaggio a Mosca, programmato da Salvini, dice la Malpezzi. Tutti i senatori del PD praticamente dicono la stessa cosa. L'ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati confermano anche di avergli pagato loro il biglietto. Cosa andava Salvini a fare a Mosca a spese della Russia? Non ci racconti la frottola che andava a fare la pace, dice lì a quarta pelle. I Dem tra l'altro discutono del passaggio parlamentare del Premier Draghi in programma il prossimo 21 giugno, quando i 5 Stelle, la maggioranza, potrebbe spaccarsi sulla questione degli invii. Noi pensiamo che si debba avere paura di un voto in Parlamento. Il governo italiano ha agito in modo chiaro sulla base di un mandato delle Camere, anche all'unanimità e in un quadro europeo. Questa è la strada da seguire. Poi è ovvio che siamo in prima linea per il cessato il fuoco e la trattativa, dice Deborah Serracchiani, capogruppo del PD, alla Camera dei Deputati. Sul fronte diplomatico il PD è impegnato con una pattuglia di suoi parlamentari Enrico Borghi, la Quarta Pelle, Romano, Raciti, a Kiev nell'ambito di una missione parlamentare. Allora, naturalmente la sinistra coglie la palla al balzo per attaccare Salvini. Non ce la racconta giusta che cosa andava a fare. In realtà la risposta è molto più semplice. Non c'è niente di strano. Non andava a fare nient'altro che campagna elettorale Salvini. Salvini è da tempo che si è travestito da pacifista perché lui segue i sondaggi, segue l'opinione pubblica. E allora si è travestito da pacifista per raccattare voti e risalire nei sondaggi. Cosa che non gli riesce assolutamente. ogni cosa che fa peggiora la lega nei sondaggi. Questa è l'unica risposta. Salvini non ha niente di strano, non sta complottando nulla, non c'è niente sotto quel viaggio lì a Mosca se non il travestimento da pacifista per campagna elettorale in Italia per le elezioni del 2023. Naturalmente che lui sogna di essere quello che porta il mondo alla pace ma ovviamente questo non avverrà mai, non avverrà mai. E il suo tentativo di raccattare voti trasvestendosi da pacifista non funziona. Quindi vorrei rassicurare il PD che dietro il viaggio di Salvini non c'è nient'altro che il tentativo di raccattare voti in Italia travestendosi da pacifista. È tutto qua. Ma lo sanno anche loro. Attenzione, lo sanno anche loro. Lo sanno anche loro. Però questo è stato un assist per la sinistra italiana proprio il giorno delle elezioni. Un assist inaspettato di un Salvini che ha fatto girare le scatole all'ambasciata dopo che gli ha prenotato tutto il viaggio. Il classico banderuola. Gli ha detto no non ci vado più perché la sinistra mi critica. Arrivederci a tutti e grazie.